Gli auguri di Natale vanno sempre fatti bene e questa sera insieme a casa qui nella nostra piazza penso che sia la cosa più bella, scambiarci un sorriso e una saluta. La novità di quest'anno è l'albero di Natale che è gemello di quello che c'è alla salute. Grazie a tutti.